Questo è stato detto anche prima, l'intenzione è di riconfermare il gruppo, se non in toto, quasi, perché riteniamo che sono tutti giovani, hanno fatto bene, c'è un bel gruppo e riceviamo complimenti da tutti. Si tratterà di inserire un paio di pedine nei posti giusti, due o tre persone, pensiamo di avere un team competitivo già il prossimo anno. Avete la fortuna di avere all'Espano un settore giovanile molto importante, infatti diversi giovani quest'anno vengono proprio dal settore giovanile del Fiorenzuolo, quindi il lavoro si riduce un pochettino. Assolutamente, la filosofia è anche quella di, se lavoriamo bene, di portare il più possibile ragazzi di Fiorenzuolo o del settore giovanile di Fiorenzuolo in prima squadra, quindi speriamo anche che il prossimo anno qualche nuovo giocatore uscirà.